Inter Atalanta, quarti di finale di Coppa Italia, gara secca contro Gasperini. Io voglio avere la certezza di andare avanti. Puntiamo alla Coppa Italia, sicuro abbiamo preso due trofei. Nerazzurri contro Nerazzurri, ma noi di casa voliamo in semifinale. Lukaku sveglia, mi aspetto una grande prova da Romelu. Se non gioco, non mi rimane la potenzione. Lontana, che sapò? Lontana, che sapò? Allora, il compito di Lukaku, questo. Capito che la metterà tutti e tiene la parola in un passaggio e in un sentimento. Questo, che spettava Lukaku? E' la unica giocata possibile, non per cercare la porta. E' una giocata possibile, non per cercare la porta. Per un attimo parella, poi Mele. Taglio di Torbenes, Mele a Grossa per domanda. Ma che vuoi diciamo? E' una tantissima opportunità per una sabata. Che è riuscito a giurare controllo. E' una marcatura. E' della difesa dell'Inter. Samoroso. No, no. E' un'istono. Buonissimo. E' un'istono. E' un'istono che lascia la marcatura. Fine primo tempo. Pensiero zio Fabio. Grande prestazione. E' mancato il gol. Sono soddisfatto di quello di come abbiamo a giocare. Pronto sono uno a due. Che stiamo facendo? Due con uno. Chi è giocato? Ah! Amma mia! Stivira del cazzo! Stivira! Stivira! Mamma mia! Di là un pollo, non si è tornato. Mamma mia! Chi sei amo? Accelera sui kittan. Eccolo le tross. Onana! Ha rispinto accorto! Ma ammè la fiore! Onana ma che sei? Guarda il pallamolo! Chi sei l'opposizione! Ma io mi chissà l'opposione! Chi sei l'opposizione? E' bello sesso! Allora la valla La nuova, il caso non ce l'ha vinto No no Non ce l'ha vinto Non ce l'ha vinto Non si c'è Non si accogge Non si accogge Non si accogge Guarda Si Matteo Matteo Dai 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 Il migliore Mamma mia Sei grande Sei grande Matteo 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 Che giocatore Che giocatore Matteo Matteo L'ha iniziata lui L'ha iniziata lui L'ha iniziata lui L'ha iniziata lui Che ricorda la propria della camera E l'ha concluso E sai cosa dico? In quella posizione Che a Schlinian si stesse in banchina O no? Che a Schlinian Che a Schlinian Può anche stare in banchina adesso Con un domani in questa condizione Con un domani in questa condizione A noi Schlinian non serve Che si Un domani in questo Quale Che a Schlinian L'ha iniziata lui Che sceglia Che a Schlinian E il video Che a Schlinian C'erano E l'ha iniziata Per Si Si forse si tratta di un'icona si tratta di un'icona c'è la sua Ma questo è un po' di povere! Ma no, buon amico! E' un po' di schermi! Ma non mi schermi! Ma non mi schermi, non mi schermi! Mi sento qui, lì 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 E' stato lui un po' di arrivato! Che culo! Ma, ma roba che cazzo dire? Che cazzo dire alla! Ma che bagano su un'isola! Ma stanno quante ore a me! Il bagano era sua proprio! Ma perché è il? Raffreddare i bollenti spiriti! Inzaghi lo sostituiscono! Accord! 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 In centro! Pronto in corner! Oltre musiche! E' fatta! E' fatta! E' fatta! E' fatta! L'Inter! La verità è eliminata! Questo è l'inizio di un risorno! Pier option dije! Pas limitata! Pas limitata! Pas limitata! Pas che toe! Pas limitata! Pas분 entendeu, Pas programmata! Pas�� или Пан! Pas ignata! Pas bров �ивая! Amala!